Salve a tutti, buon tutto. Allora, con questo video voglio dire che il decreto sicurezza che ha fatto il governo della destra ha fatto bene a fare quelle cose che ha fatto. Se la sinistra ce l'ha tanto con la destra è perché non ha più i voti dagli italiani ed è meglio così perché ne sparano tante di cavolate. Come per esempio fare la manifestazione contro il decreto sicurezza. Ma scusate, in Italia si deve riempire sempre di immigrati che fanno casini? Che le borseggiatrici, che incinte, che dicono che è un lavoro per loro rubare. Sì, ma quelle cose che rubano però le persone oneste se li sono guadagnate per comprarsene. Ecco, una cosa voglio dire. Quindi devono capire questo, che noi italiani non li vogliamo più gli immigrati. Sono troppi, sono troppi. Anzi, qui in Italia si dovrebbe fare come in Australia, il visto. E se non c'è il visto, se non c'è il permesso di starci, ritorni indietro.